Siamo insieme al sindaco di Pinerolo Eugenio Butiero per l'avvio dei lavori di realizzazione degli alloggi di social housing qua in via Vescovado 20. Che cos'è questo progetto? Questo è un progetto, è un caso pilota che prevede la realizzazione di 11 alloggi di abitazione cosiddetta social housing sociale che prevederà l'accoglimento di mamme con bambini o mamme sole o anziani disabili che abbiamo portato avanti con la collaborazione del mutuo soccorso di Pinerolo e con la regione Piemonte. Abbiamo raggiunto un risultato importante perché oggi diamo avvio a questi lavori che nell'arco di 18 mesi dovrebbero essere completati quindi vuol dire che fra 18 mesi noi avremo 11 alloggi da mettere a disposizione del disagio sociale più che mai oggi ne abbiamo bisogno. Non sappiamo spesso come reperirli, cerchiamo di fare tutto quello che riusciamo a fare ma a volte non riusciamo a fare tutto e di conseguenza cosa dire? Questa è una giornata bella, forse non è il termine corretto, questa è una giornata importante per la città e per tutto il territorio pinerolesi. Come funzionerà per chi vorrà usufruire di questi alloggi? Sarà una graduatoria? Sicuramente ci sarà una graduatoria, questo verrà gestito come gestione, ecco qui proprio la collaborazione del mutuo soccorso, ci sarà anche un piccolo canone di affitto da pagare che cambia secondo la superficie dell'alloggio ma che è molto contenuto e quindi la gestione verrà come ho detto del mutuo soccorso e ci sarà una graduatoria, si valuterà questo chiaramente. come sempre si fa. Gli alloggi erano di proprietà del comune? Come è stata avviata la ristrutturazione? Allora, gli alloggi, il fabbricato non è di proprietà del comune, il fabbricato è di proprietà del mutuo soccorso che tramite una convenzione col comune abbiamo assunto un impegno, loro ci mettono a disposizione il fabbricato, noi lo ristrutturiamo e per 30 anni abbiamo la disponibilità di utilizzarlo con quel fine che ho detto prima dell'abitazione sociale. Lei ha detto che questo è un progetto pilota quindi probabilmente per il futuro si potrà seguire questo ordine? Sì, questo è proprio un progetto pilota, sono stati 20 in tutta la regione Piemonte e questo è stato accolto già diversi anni fa come bando, avevamo partecipato a un bando, poi ci sono state qualche piccolo intoppo burocratico, il sindaco quando si è insediato ha recuperato questo progetto, l'ha portato avanti e di conseguenza quando lo utilizzeremo avremo raggiunto un risultato importante sull'aspetto dell'esigenza ma anche sotto l'aspetto del recupero di un edificio nel centro storico con caratteristiche di qualità, non pensiamo che questo sia un recupero di edilizia sociale per dire, ma beh, quello è un'edilizia sociale mal realizzata, questa sarà un'edilizia sociale di alta qualità nonostante viene utilizzata per carattere sociale, perché non è detto che la caratteristica sociale deve essere di bassa qualità, sono vincoli ma vincoli che abbiamo accolto molto volentieri e poi quello che è stato importante è la collaborazione che abbiamo predisposto e abbiamo continuato con la società di mutuo soccorso.